Sì, adesso mi guardi in tramo, eh, in tramo, vabbè, con l'opera, adesso, serio, serio? Fermo così e mi chiede di, mi guardo, mi guardo, mi guardo, ancora una, e posso far passare il foto proprio con l'opera, adesso, per fare un po' di più, mi dimentico il mento un po' basso, così la vedo, vedi, sono raggiunti, ecco, guardi. Grazie a tutti.